Musica Buongiorno ragazzi bentornati sul mio canale sono le 7 e mezza del mattino c'è un'alba incredibile qua mi trovo a Chiesa in Val Marenco in Lombardia e siamo appunto venuti finalmente a sciare erano uscita da due anni speriamo che la neve sia buona mio fratello è andato ieri a quanto pare lo è e niente quindi adesso saliamo su a 7 e mezza partiamo da casa quindi per le 8 avere già il biglietto in mano e andare su come primi persone a godersi e voglio appunto godermi le piste quando ancora non c'è su nessuno quindi speriamo in bene e ci vediamo alla funivia Musica Alla giù, dove siamo? Chiesa in Valmalenco si scia finalmente Alla chiesa in Valmalenco che per chi non lo sapesse sta vicino, non è lontano da Bormio dai No, è sempre Valtellino Sempre Valtellino, non si allontani, la giornata è buona Ci sono un paio di nuvole ma niente di che Neve bella, bella dura, bella ghiacciata e poi va a scendarsi Finalmente dopo due anni senza sci e... Va bene mamma, entri nel vlog, debuto ufficiale nel vlog Un piacere, sono la mamma del vlogaro Andiamo a provare queste piste e... Boh, sinceramente non ho idea di come andrà a sto vlog Perché non ho idea di come montare un vlog di sci Quindi, boh, a cazzo Sarà assolutamente a casa A casissimo proprio, ignorante Va bene, andiamo a sciare Bella Allora ragazzi, prima pista della stagione Vi porto sulla pista Nana Che è abbastanza veloce Super carina E adesso non c'è letteralmente nessuno Quindi è il momento giusto per andare a farla Ho lasciato mia mamma e mio fratello a fare un'altra pista Quindi li rivecco tra poco Vai Andiamo a provare Infatti, ecco lì Va bene Andiamo a provare questa cosa Allora ragazzi, ecco lì Grazie a tutti 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 Grazie a tutti